ecco supponiamo di avere messo tutte le nostre equazioni in ordine di avere specificato le forze le posizioni dei punti come abbiamo visto nei vari esercizi di aver usato o il principio delle potenze virtuali oppure le equazioni cardinali della dinamica e insomma alla fine di aver specificato i vincoli eccetera eccetera insomma alla fine di essere riusciti a trovare un'equazione differenziale degna di questo nome cioè un'equazione differenziale che non contenga i vincoli ma che contenga soltanto le coordinate necessarie a determinare le posizioni incognite dei punti e in particolare quindi il moto dei punti. Cosa ci possiamo aspettare da questo tipo da questo tipo di equazione? Intanto diciamo siccome le incognite sono sicuramente i posizionamenti dei punti cioè quindi le posizioni dei punti a funzione del tempo e siccome c'è l'accelerazione ci aspettiamo che ci siano delle equazioni del secondo ordine cioè che contengano le derivate seconde non ci aspettiamo delle in generale delle equazioni di ordine superiore a meno che non siano sistemi anche a meno che questi non derivano non derivino queste non derivino dal fatto che ci sono sistemi di equazioni perché in generale non è detto che ci sia solo un'incognita scalare ma questo è un fatto analitico. Allora che cosa ci aspettiamo da questo fatto? Allora molto spesso si dice che, se ci ricorda la famosa frase di Laplace che diceva che se uno conoscesse le condizioni iniziali di tutti i punti dell'universo allora diciamo tutto il passato, il futuro sarebbe noto ai suoi occhi e tutto si potrebbe prevedere con esattezza. Bene noi sappiamo che le cose non stanno veramente così per vari motivi. Primo perché per esempio ci sono, vedremo, delle soluzioni un pochino strane dal punto di vista fisico delle leggi della meccanica. Poi c'è un problema molto più delicato è che anche se le soluzioni potrebbero essere determinabili, cosa che in generale non si riesce a fare in maniera esatta, ma cosa sapeva anche Laplace, queste potrebbero essere molto instabili e quindi dare origine a delle previsioni che non sono di fatto utilizzabili perché un piccolissimo scostamento dalla conoscenza delle condizioni iniziali, il famoso effetto farfalla, potrebbe dare delle soluzioni completamente diverse. Però, però diciamo può succedere anche di peggio, questo è nello scenario in cui uno può riuscire a prevedere la soluzione con esattezza in tutti gli istanti. Non è detto che sia così, ci possono essere dei campi di forze strani che ammettono infinite soluzioni dell'equazione differenziale perché si è scelta un'equazione differenziale un po' particolare oppure, come si diceva, un'equazione che esiste soltanto per un po' di istanti e poi basta, c'è un intervallo massimale di esistenza. Cosa succede in questi casi qua? Vabbè, se ci sono infinite soluzioni, basta, vuol dire che ci manca una delle informazioni, se noi vogliamo determinarne una, dobbiamo dire che cosa deve avere di più la soluzione che stiamo cercando. Se la soluzione non esiste, ecco allora la cosa è un po' più delicata perché allora vuol dire che il modello che abbiamo messo in piedi, diciamo, o ci aspettiamo che il moto sia impossibile, effettivamente ci sono delle situazioni in cui il moto può essere impossibile, in cui le forze sono messe in maniera tale che ci sia una contraddizione, ma questo a livello di come sono messe le forze. Altrimenti dobbiamo cambiare il modello, dobbiamo dire no, questa cosa non funziona perché vorremmo ottenere quantomeno una soluzione. Di cose generali se ne possono dire poche e sono tutte più o meno analitiche. Si conosce, per esempio, siccome si tratta di equazioni differenziali ordinarie, secondo me l'incognita soltanto il tempo, si conoscono dei teoremi abbastanza potenti che garantiscono quantomeno esistenza e unicità in un intervallo di tempo massimale, che è il massimo che possiamo richiedere senza fare ulteriori ipotesi. E poi c'è un teorema interessante che ci servirà, proprio diciamo legato al fatto che abbiamo a che fare con sistemi del secondo ordine, non col primo, che si chiama il teorema del moto incipiente e che quindi andremo a vedere. E quindi, vabbè, si tratterà di una lezione un pochino analitica e, vabbè, c'è anche un po' di analisi, ma poi per il resto la lasciamo fare agli analisti che sono molto più bravi di noi. Vediamo un pochino che cosa intendevo dire più in dettaglio con tutta questa pappardella iniziale. ecco, supponiamo quindi di avere individuato delle coordinate che chiameremo x1 di t, xn di t, che non è detto che siano n grande, anzi, se i punti sono liberi, per esempio, n piccolo sarà tre volte n grande, perché ogni punto ha il suo, se sono di meno, saranno di meno. Queste x possono essere degli angoli, delle lunghezze, come abbiamo visto, per esempio, nell'esempio numero 6, mi sembra che c'era una x e c'era un angolo θ, insomma, ci sono le cose più varie. Allora, se uno riesce a liberarsi delle reazioni vincolari, in generale troverà una, chiamiamo x questo vettore qua, funzione del tempo, uno troverà una soluzione, un'equazione, scusate, del tipo x, due punti, funzione del tempo, uguale una funzione vettoriale f, che conterrà, va bene, il tempo, perché le forze generalmente dipendono dal tempo. Poi abbiamo visto, ci sono dei casi in cui c'è la dipendenza anche dalle velocità, pensate all'attrito dinamico, e poi tipicamente si ha la dipendenza dalla posizione, ovviamente questa f poi alla fine può essere anche costante, se vi piace, come è il caso della forza peso. Quindi questo è un sistema, intendiamoci, quindi è un x1 due punti di t uguale a f1 di t x1 punto xn punto x1 xn e così via, fino a x2 punti n di t fn della stessa cosa. Quindi una cosa molto complicata dal punto di vista analitico, però quantomeno analiticamente il problema è ben posto, diciamo è chiaro, diciamo ben posto una parola per una, vuol dire un'altra cosa. Dopodiché uno assegna quello che tipicamente uno può assegnare, cioè le posizioni iniziali, quindi un vettore x con 0 di posizioni iniziali e le velocità iniziali, e cioè un vettore v0. Ecco, non è sempre detto, per esempio, nei problemi meccanici che si diano le condizioni iniziali. A volte si danno anche le condizioni iniziali e le condizioni finali. Per esempio, si può andare a richiedere di cercare quali sono i moti che iniziano da una parte e finiscono dall'altra, che portano a dei problemi matematici completamente diversi da quelli che tipicamente si trattano in meccanica. Però non è assolutamente vietato chiedersi che cosa bisogna fare partendo da un punto iniziale p0 e dato un campo di forze per farlo arrivare in un certo tempo in un punto finale p1. Questi problemi sono problemi anch'essi meccanici, ma sono diversi dal punto di vista analitico, dal punto di vista meccanico, sono sempre problemi meccanici. Ma concentriamoci sui problemi cosiddetti evolutivi, che sono quelli in cui uno ha sostanzialmente solo le condizioni iniziali, poi il sistema fa quello che vuole. Allora intanto c'è un primo passaggio che è quello di ridurre questo sistema a un sistema del primo ordine. Però prima di fare questo volevo farvi vedere quello che vi dicevo prima. Se uno prende per esempio un punto su una retta, un punto libero su una retta e indica con x di t la sua scissa, questo suppone che sia vincolato, che sia soggetto semplicemente a una forza, quindi un vincolo liscio, non c'è nessuna reazione vincolare, così, e questa forza la mette proporzionale alla radice quadrata di x e fa finta che sia soltanto per x maggiore di 0, tanto per fissare le idee. Allora la legge di Newton dice che m x due punti ovviamente deve essere uguale a radice di x. Ecco, allora mettiamo per semplicità m uguale a 1, tanto per fare un esempio, per dirvi cosa può succedere. Allora supponiamo di dare la condizione iniziale x di 0, anzi x di t 0, uguale 0 e x punto di t 0 uguale a 0. Quindi il punto parte, diciamo, dall'origine, da fermo ed è soggetto a questa forza radice di x. Uno dice, va bene, questa forza qui se x uguale a 0 fa 0, quindi il punto non si muoverà mai e di fatti sicuramente una soluzione x di t è uguale a 0 per ogni t. ma non è l'unica. Per esempio, la soluzione x di t uguale t alla quarta fratto 144 è anche lei una soluzione del problema. Verifichiamolo. Allora è chiaro che x di, diciamo così, t meno t 0, per essere precisi, alla quarta. Vediamo quanto fa x di t 0 è chiaramente 0. Facciamo la derivata, allora questo fa 12 per 36, un trentaseiesimo t meno t 0 alla terza. E quindi questa sarebbe la x punto di t e quindi chiaramente x punto di t 0 è uguale a 0. Quindi le condizioni iniziali sono verificate. Vediamo che è verificata l'equazione. Allora abbiamo messo m uguale a 1, facciamo la derivata seconda. La derivata seconda è 1 dodicesimo per t meno t 0 alla seconda. Siccome t è maggiore o uguale di t 0 si può fare la radice quadrata. Quindi se io guardo questa cosa qua, questa qua è esattamente uguale alla radice quadrata di un 144 t meno t 0 alla quarta e quindi è la radice quadrata di x di t. E quindi questa è una soluzione tanto accettabile quanto la soluzione nulla. E' chiaro che fisicamente è un po' strana perché uno dice ma se all'inizio eri fermo e la forza non era nulla, com'è che fai a metterti in movimento? Il motivo è che la radice di x è una funzione strana in questo senso che può creare di queste difficoltà. Allora è chiaro che uno se vuole selezionare la soluzione giusta deve in questo caso aggiungere delle ipotesi che dicono no. Allora se io voglio quella che sia, non so, che abbia delle condizioni, non so quali possano essere, che non sia identicamente costante, allora per esempio potrebbe scegliere t meno t 0 alla quarta e fatto 144. Tanto per fare, tanto per fare degli esempi. Ok, quindi su questo poi torneremo e torneremo più avanti. Allora adesso torniamo invece al nostro discorso generale. Quindi avevamo un sistema del tipo x x punto uguale f, quindi tutto vettoriale qua, di x, anzi ho detto prima t, t poi x punto e x. Ecco, allora siccome questo è un sistema, quindi x punto x appartiene a rn, ecco che è un rn algebrico ovviamente, allora se uno se uno non dispiace aumentare quell'n si può sempre scrivere come sistema del primo ordine, quindi hanno due punti. Basta porre x punto uguale a y, se uno pone x punto uguale a y, quindi anche lui appartenente a rn, e poi pone z il vettore x, y, che apparterà quindi a r2n. Ecco allora a questo punto questo diventa un sistema del primo ordine, perché x punto è chiaramente uguale a y, che abbiamo posto noi. Y punto sarebbe x due punti e quindi sarebbe f di t, x punto che è y e poi x. E questa è chiaramente una f tilde di t e z, perché z è la coppia x y e questa è esattamente una funzione della coppia. Quindi diciamo così, uno ha un sistema della forma z punto uguale g di t e z, dove g chiaramente è una funzione che va a valori in r2n e fa y nella prima componente e f di tz nella seconda. E quindi naturalmente anche z punto vuol dire x punto y punto. Quindi alla fine diciamo possiamo sempre ricondurci al caso, adesso scriviamo di nuovo la f, possiamo sempre ricondurci a un sistema del primo ordine a patto di pagare, diciamo così, sull'ordine, cioè sulla dimensione delle soluzioni, dello spazio delle soluzioni. Ecco in questo ambito qua c'è una condizione molto molto interessante, diciamo così, che si chiama la condizione di Lipschitzianità, ecco, la condizione di Lipschitz, ecco, una funzione f da r, adesso dico n di nuovo perché potrebbe essere 2n, facciamo da rm, rm, ecco, si dice Lipschitziana di costante L, se succede che per ogni x e y in rm si ha, questi sono vettori, si ha che f di x meno f di y in rm è meno o uguale di L volte norma di x meno y. Ecco, questa è la condizione di Lipschitz. Dopodiché la f però è funzione anche di t, quindi cosa si può dire in t, dobbiamo dire anche qualcosa di t. Ecco, allora ci sono, qui, delle cose un pochino più delicate, noi supporremo, per esempio, che la funzione f di punto x, quindi la funzione f di t, sia continua. In realtà basta meno, ecco, basta meno per cosa? Basta meno per il teorema di esistenza e unicità. che vedrete, chi ha voglia di farlo, corso interessante di approfondimenti di analisi matematica. Ecco, dice che se f da i cartesiano a rm, a valori in rm, i è l'intervallo dei tempi, i aperto, intervallo aperto, contenuto in r, intervallo aperto, e f è Lipschitziana in x e continua in t, allora il problema cosiddetto ai valori iniziali, che è dato da x punto uguale a f di tx e x di t0 uguale x con 0, ovviamente con t0 appartenente a i, ammette una e una sola soluzione in un intervallo massimale. Cosa vuol dire? Vuol dire che non si può ulteriormente ampliare. ecco, e questa è una bella notizia, perché, diciamo, in questo modo, noi sappiamo che quantomeno per un po' di tempo la soluzione esiste. Perché la soluzione non esiste per tutti gli istanti di tempo? E, diciamo così, l'intervallo massimale può essere finito. Guardiamo questo esempio, sempre in r1. Prendiamo un'equazione del tipo x punto, semplicemente del primo ordine, dopo chiaro se ne possono inventare anche il secondo ordine, uguale a x alla terza. Ecco. Allora, se io prendo questo sistema qua, ora, una soluzione di questo problema, e prendiamo x di t0 uguale, metti, a 1. Ecco. Allora, la soluzione di questo problema è la radice quadrata di 1 fratto 1 più 2 t0, 2 volte t0 meno t. Allora, questa è l'unica soluzione. Verifichiamo che x di t0 faccia 1, questo è facile, la radice di 1, 1. Poi, se faccio x punto, devo derivare la radice, mi viene 1 fratto 2 volte la radice, quindi 2 volte x. Poi devo derivare quello che c'è sotto, che è 1 fratto qualcosa, per cui 1 più 2 volte t0 meno t al quadrato, per la derivata del denominatore rispetto a t, che è meno 2. Ecco. E quindi questo diventa 1 fratto x per 1 fratto 1 più 2 t0 meno t, tutto al quadrato, che è chiaramente questo, x alla quarta. Quindi viene x alla quarta fratto x, ed è x alla terza. Quindi questa è sicuramente una soluzione. Poi x alla terza è una funzione derivabile di classe c1, e tutte le funzioni di classe c1 si può dimostrare che sono lipceziane. Non dipende da t, quindi è continua in t, e quindi questa è l'unica soluzione del problema. Che però, vedete che, se io prendo per esempio t0 uguale a 0, tanto per fissare le idee, che x di t viene ad essere uguale, quindi alla radice quadrata di 1 fratto 1 più 1 meno 2 t. E questo tende all'infinito se t tende a un mezzo. Quindi qui l'intervallo massimale è 0, un mezzo. Succede quindi una cosa stranissima dal punto di vista fisico, cioè che un problema di questo genere, che sembra molto analiticamente molto semplice, ha una soluzione che va all'infinito in un tempo finito. È chiaro, la meccanica classica lo prevede, per esempio questo è uno dei problemi della meccanica celeste, cioè di garantirsi che le soluzioni non vadano all'infinito in tempo finito, cioè è un problema difficile. Perché in meccanica classica questo è possibile, ovviamente in meccanica relativistica questo non può avvenire. Per quanto riguarda le soluzioni di equilibrio, le soluzioni di equilibrio sono le soluzioni x di t indipendenti da t, quindi uguali a x segnato. Ecco allora è facile vedere che se f è f è l'ipschitziana eccetera eccetera, e continua in t, allora la soluzione x di t uguale a x segnato, cioè la funzione diciamo così, è soluzione di x due punti, sono tornato alla versione newtoniana che è più interessante in questo caso, t x punto x se e solo se, allora x punto di t zero è uguale a zero, cioè tutte le velocità iniziali sono nulle, e f di t zero x segnato è uguale a zero, che è quindi un sistema diciamo algebrico se vogliamo, se f è un polinomio, è un sistema, è una funzione polinomiale perché è un vettore, è un sistema algebrico. Quindi praticamente il problema di determinare la posizione di equilibrio è, si riduce a un problema algebrico. Allora come si fa? C'è un se e solo qui, un se e solo se, quindi vediamo, se x di t è uguale a x segnato, allora chiaramente x punto di t fa zero, zero sempre, e quindi in particolare x punto di t zero fa zero. E poi ovviamente se uno, se deve essere soluzione del problema, allora abbiamo che anche la derivata seconda è zero e quindi abbiamo f di t, che quindi in generale vedete quando f è una funzione di t è anche difficile trovare le posizioni di equilibrio, in certi casi però si trovano. poi x punto di t deve fare identicamente zero e poi x di t deve fare identicamente x segnato e quindi è vera la condizione. Viceversa, a parte è un po' più difficile, supponiamo che si abbia una soluzione tale che x punto di t è uguale a zero e f di t zero x segnato sia uguale a zero. Ecco, allora che cosa succede? Succede che x di t t uguale a x segnato è una possibile soluzione è una possibile soluzione e di conseguenza siccome f è elipsiziana in x e continua in t è anche l'unica e quindi per forza x di t deve essere uguale a x segnato e così la dimostrazione è conclusa. Questo teorema ha una conseguenza curiosa e cioè che se f è elipsiziana cioè se la soluzione è unica non è possibile che un sistema abbia questo comportamento cioè che evolva nel tempo fino a una posizione di equilibrio e poi si fermi oppure che parta da una posizione di equilibrio perché 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 in entrambi i casi ci sarebbero due posizioni di equilibrio si fermi in un tempo finito eh si fermi per t zero appartenente a r ecco perché altrimenti ci sarebbero due soluzioni del problema quella che è costantemente uguale a t zero è quella che arriva o parte dal punto x zero o x segnato che dir si voglia ecco questo è impossibile se la f è una funzione elipsiziana invece nell'esempio strano che avevamo detto prima quello di x due punti uguale a radice di x quello in cui x era uguale a t meno t zero alla quarta fratto 144 se uno prende il tempo e lo fa diciamo prende un t maggiore di t zero e poi prende lo prende al contrario cioè fa tendere t a t zero da destra allora vede una vede una soluzione che tende a zero e poi quando arriva a t zero si ferma basta in realtà lei vorrebbe ripartire ma noi sappiamo che il problema è tale che la x non può essere diciamo così ne dovrei mettere al contrario ecco questa era la situazione una una x che scende fino qua e poi si ferma ecco mentre invece non è possibile perché la radice di x non è una funzione elipsiziana ed è per quello che succede però vedete che anche le cose strane possono avere dei comportamenti invece fisicamente ragionevoli cioè il fatto di tendere a qualche punto e poi fermarsi quello che è possibile invece con una funzione elipsiziana è che il moto rallenti sempre di più fino a tendere ma solo per t che tende l'infinito alla posizione x segnato quello è possibile non è possibile fermarsi in un tempo finito chiaramente se non ci sono strani attriti e cose di questo genere che cambiano radicalmente il secondo membro del problema ecco fin qui queste cose erano tutte cose abbastanza standard di teoria delle equazioni differenziali ordinarie adesso invece vediamo un risultato che è specifico delle equazioni del secondo ordine che dice sostanzialmente questo dice che se uno ha un sistema di questo di questo tipo con un secondo membro elipsiziano eccetera eccetera e parte da fermo con una forza non nulla allora per un pochino di tempo la sua velocità deve seguire più o meno la direzione della forza cioè non è possibile che un punto che parta da fermo con una forza che tira in un verso si muova nella direzione opposta si parla ovviamente di moto reale no di moto virtuale questo si chiama teorema del moto incipiente e ci servirà più avanti quando faremo l'analisi qualitativa di alcuni moti è una cosa molto ragionevole però bisogna dimostrarla e quindi adesso lo dimostreremo con un po' di analiticherie eccolo qui il teorema del moto incipiente allora intanto dobbiamo avere un'equazione del secondo ordine quindi supponiamo di avere x due punti uguale a f questo vale anche per un sistema t x dt x punto dt e x dt chissà perché come sul punto in mezzo non so è lo stesso anzi non facciamo come prima mettiamo il punto in mezzo e poi x ecco f ovviamente l'ipsiziana in x x punto e continua t chiaro che la ripsizianità serve in x e x punto perché prima era una variabile sola z ma adesso servono tutti e due ecco poi supponiamo che che x punto di t 0 sia uguale a 0 questa è la novità e che f in un certo istante t 0 in 0 quindi velocità nulla e x di t 0 quindi posizione iniziale sia diverso da 0 quindi una forza nell'istante iniziale non nulla allora esiste un t 1 maggiore strettamente di t 0 tale che per ogni t che sta tra t 0 e t 1 si ha che f quindi la forza in tutti gli istanti quindi t x punto di t x di t scalare x punto di t sia maggiore di 0 cosa significa prima di dimostrare significa che io ho un punto x di t 0 e ho una forza diversa da 0 che sta agendo in quell'istante lì tenete presente che f poi cambierà quando x si sposta ecco quindi questo e la velocità è nulla quindi x punto uguale a 0 in questo punto allora poi il moto parte e allora facciamo in rosso quello che succede è che la velocità x punto deve formare un angolo acuto con f cioè non è possibile che succeda una cosa così che uno parte con f in questa direzione e la velocità vada in questa questo no questo non deve succedere questo invece è ok una volta tanto l'ok è diventato rosso e il no è diventato verde ecco vediamo quindi la dimostrazione il ragionamento è abbastanza cioè il significato è abbastanza intuitivo allora il motor verifica l'equazione differenziale quindi la velocità quindi l'accelerazione per ipotesi la superiamo continua perché x due punti è uguale a f che è una roba continua quindi se la funzione se la soluzione esiste diciamo quindi v è di classe c1 x punto eh x punto sarebbe v ecco allora io scrivo posso scrivere lo sviluppo di taylor di x punto cioè posso scrivere che x punto di t è uguale a x punto di t0 che però per ipotesi è 0 e poi ci sarà x due punti in t0 per t meno t0 più un resto il resto di peano in t dipendente da t0 però attenzione che cos'è x due punti questo è 0 quindi questa x punto è in realtà f perché x punto è uguale a f in tutti gli stati quindi è f di t0 0 x di t0 che per ipotesi è diverso da 0 quindi qui abbiamo t meno t0 più il resto di t oppure forse siete abituati a scrivere omega di t t meno t0 può essere che siate anche abituati a scrivere il resto in questo modo qua ecco allora adesso è tutta una questione di continuità dunque noi dobbiamo sappiamo che per ipotesi questo oggetto qua è diverso da 0 e allora siccome è un vettore diverso da 0 noi possiamo sicuramente sappiamo che e poi è continua quindi f è continua per cui esiste un intorno u di del punto t0 0 x di t0 questo sarà in r 50.000 tale che la f su u sia diversa dal vettore nullo ecco in tutto questo intorno la f è diversa dal vettore nullo chiamiamo questa quantità f in t0 chiamiamola f0 tanto per abbreviare un pochino le cose quindi siccome non è nulla diciamo intanto non è nulla e poi e poi attenzione io ho che f questo qua è un po' più delicato bisognava farlo per componenti io ho questo f0 siccome variando di poco il punto e la velocità e tutto quanto varia di poco f succede anche che non è possibile che l'angolo tra f e f0 diventi di colpo negativo perché quando f quando t tende a 0 f deve tendere a f0 e quindi l'angolo non può diciamo non può tenderci perché f0 è diverso da 0 non può tenderci diciamo con un angolo negativo quindi diciamo succede che f di t psi eta per dirla velocemente scalare f0 deve essere maggiore diventato maggiore di 0 e deve essere maggiore di un mezzo norma di f0 al quadrato per esempio è un fatto di continuità quindi perché la funzione f t xi eta scalare f0 diviso norma di f0 se ci pensate un attimo al quadrato questa tende a 1 quindi se tende a 1 diventa maggiore di un mezzo e quindi abbiamo trovato questa qua poi quindi chiamiamo adesso f1 l'estremo superiore su quell'intorno u di f quindi di t psi eta ecco allora a questo punto io so che la f di t psi eta è minore uguale della norma di f1 questo chiamiamo norma di f1 così tanto la norma è una cosa continua ok allora adesso usiamo la continuità del moto usiamo la continuità del moto io so che t0 0 x di t0 sicuramente appartiene a u e quindi u è un intorno della posizione iniziale dello stato iniziale e quindi esisterà un altro intorno esiste diciamo siccome la funzione t x punto di t x di t è continua in t esisterà un t maggiore di t tale che per ogni t appartenente a t0 t' uno abbia che tutto f di t x punto di t x di t appartiene a u ecco sempre questa per continuità adesso ci siamo dunque il resto di Peano ha questa proprietà che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un t secondo maggiore di t0 tale che per ogni t appartenente a t0 t secondo uno abbia che l'r come ne abbiamo chiamato r sì di t t0 sia minore il modulo di epsilon modulo di t meno t0 quindi prendo t1 il più piccolo tra t primo e t secondo così che valgono tutte le relazioni e quindi io scopro che f di t x punto di t x di t scalare x punto di t questo è uguale andiamo a scrivere che cosa sono f è sempre f quindi abbiamo f di t x punto di t x di t scalare scalare allora che cos'era x punto era f 0 x punto ricordate era f 0 per t meno t 0 eccolo qui segnando in verde più il resto quindi f quindi f 0 per t meno t 0 più f in tutto il pappardello scalare r di t meno t 0 scusate r di t punto di virgola t ok quindi vedete che adesso si comincia a vedere la luce perché questo oggetto qua è minore uguale del suo modulo che è minore uguale di epsilon norma di f1 perché siamo in u quindi in u abbiamo che f è minore uguale eccolo qui di norma di f1 epsilon viene dall'r e poi c'è il modulo di t minuti in zero questo e questo pezzo qua quindi alla fine adesso ci siamo e quindi abbiamo che a questo punto ne segue che se io faccio f d t x punto di t x d t scalare r d t 0 abbiamo detto che il modulo è minore uguale di epsilon quindi questo è maggiore è maggiore scusate minore quindi questo è maggiore di meno epsilon norma di f1 che è un vettore dato per t meno t0 ecco ripeto perché il modulo di questa quantità è minore di epsilon f1 t meno t0 ecco e adesso abbiamo vinto abbiamo vinto perché cosa succede succede che f di t x punto di t x di t scalare x punto di t sempre nell'interno nell'intorno che abbiamo detto sarà maggiore di allora il termine che sto segnando in rosso abbiamo detto che era maggiore di un mezzo norma di f0 al quadrato quindi un mezzo norma di f0 al quadrato infatti l'avevamo detto qua eccolo qui sto segnando in rosso siccome vale per ogni x eta in particolare varrà per x punto di t x di t poi l'altro poi c'è scusate qui ho preso troppo questo soltanto poi c'è il t meno t0 che dobbiamo pagare alla fine che tanto è positivo e poi però mi resta vedete un epsilon t meno t1 questo è un t meno t0 sì tanto è uguale t meno t0 è positivo quindi qui possiamo mettere t meno t0 giusto ecco quindi meno epsilon norma di f1 che è un altro vettore e poi t meno t0 e basta ce l'abbiamo fatta perché se io prendo questo vale per ogni epsilon maggiore di 0 e quindi se io prendo epsilon uguale un quarto norma di f0 al quadrato diviso la norma di f1 che sono tutti e due diversi da 0 allora questa quantità qua è sicuramente maggiore di 0 e con questo il teorema è dimostrato e con questo abbiamo concluso la nostra rapida carrellata sui sulle soluzioni dei problemi che determinano il movimento adesso ci poniamo un problema che risolveremo la settimana prossima e cioè ma cosa succede in soluzioni in cui la velocità per esempio non è derivabile cioè quando l'aereo decolla per esempio la velocità potrebbe avere una componente verticale che diciamo così accelera a un salto nell'accelerazione ok per cui parte per un po' con l'accelerazione nulla poi di colpo l'oggetto parte oppure quando entrate in una curva diciamo circolare in modo rettilineo poi vi mettete a ruotare con un raggio costante la forza centrifuga salta e quindi l'accelerazione salta il fatto che l'accelerazione salta vuol dire che la velocità ha un punto angoloso e insomma morale vuol dire che la legge di newton non si può scrivere in quell'istante lì non si può scrivere oppure peggio ancora peggio ancora pensate di prendere una pallina e buttarla contro il muro se prendete una pallina e la buttate contro il muro la velocità è addirittura discontinua non l'accelerazione ma la velocità quindi a maggior ragione l'accelerazione non esiste ma allora cosa si può fare per risolvere il problema del moto c'è modo di risolverlo ecco vedremo nella prossima lezione vedremo che c'è un modo di estendere diciamo così la nozione che abbiamo dato di dualità di potenza in modo furbo che permette di consentire di ammettere anche delle soluzioni di questo tipo ovviamente dovremo reinterpretare il principio di D'Alamberti in una forma particolare sarà una cosa un po' particolare un pochino diciamo specifica per la lode se volete come si dice in questi casi però ci tengo a dire che si può prendere la lode anche diciamo non sapendola questa cosa qua se la si sa va molto bene ma non è veramente una cosa necessaria per la lode diciamo che può essere sufficiente ecco questa cosa qua è un'estensione del concetto di derivata che è molto utile nella matematica moderna che è uno dei motivi per cui abbiamo scelto questa impostazione con le potenze che ci si avvicina un pochino anche se vedrete che dovremo fare ancora un pochino di lavoro comunque niente nella prossima lezione ci aspettano quindi soluzioni non regolari e poi invece riprenderemo a parlare di cose più standard come i campi di forze andremo a studiare più in dettaglio i campi di forze posizionali tanto grazie per l'attenzione e arrivederci grazie